La rivoluzione rispetto alla passata stagione è tutta nei numeri. Oltre al tecnico Fabio Grosso, il Bari ha accolto 15 nuovi giocatori, segno evidente di un cambio di lotta rispetto ai risultati di pochi mesi fa, ma anche punto di partenza di un progetto ben definito, assicura il direttore sportivo Sensogliano. A lui tocca il bilancio di questo mercato e lo sguardo sulla stagione del Bari, partendo da una certezza. Noi abbiamo una rossa competitiva, noi abbiamo sicuramente una squadra che sta lavorando bene, il mister sta dando delle idee di gioco, abbiamo giocato quattro partite, anche se la Coppa Italia non è il campionato, però non abbiamo giocato partite di Coppa Italia contro squadre di categoria inferiore, ma due partite di squadre importanti della nostra categoria. E penso che tutte e quattro le partite abbiamo fatto quattro buone prestazioni, con delle cose che stanno andando molto bene e delle cose che invece devono migliorare. La convinzione è rafforzata dai risultati di questo primo mese. Quattro gare, due di Team Cup e altre tante di campionato con un bilancio positivo, tre vittorie e una sconfitta. Tanto più se si considera che lo stop di domenica scorsa, sottolinea Sogliano, è arrivato contro l'Empoli, che oltre a essere appena retrocessa dalla Serie A, ha in rosa un calciatore come Ciccio Caputo, che sposta gli equilibri in questa categoria. Poi certo, il sogno è quello di vedere il Bari giocare partite come quella vinta sul Cesena, ma gli avversari non sono tutti uguali. Tutti noi ci aspettiamo sempre partite come quella che è stata fatta con il Cesena, ma non sempre può essere così, perché ci sono anche gli avversari e ci sono avversari forti quest'anno, anche più forti dell'anno scorso. Intanto la squadra prepara la gara interna contro il Venezia. È tornato in gruppo il difensore slovacco Gjomber, che potrebbe partire titolare, soprattutto dopo la prestazione opaca del reparto arretrato nella gara di Empoli.